Con questo video gioco in casa e cercherò di raccontare la storia del santuario della madonna del castello di Ambivere che vedete dalla foto. Anticamente questo santuario era una fortificazione militare. Quando sia stato edificato di preciso non si sa. Si parla nel lontano Medioevo, comunque dopo il 1200, dove anche la nostra zona era una continua guerra fra Guelfi e Ghibellini, perché dalla sua altezza poteva benissimo controllare sia l'ingresso della val San Martino che tutta la pianura sottostante. Inoltre da lì passava una mulattiera scavata nella terra come da foto, che incrociandosi con quella proveniente da Mappello, dove si trova la chiesetta degli Alpini di Mappello oggi, e vedete dalla mappa, collegava la pianura a Fontanella, che a quei tempi era un fiorente centro religioso, fondato da Alberto da Prezzate, il tragitto più breve per andare da Prezzate, suo paese natale a Fontanella. La parrocchia di Ambivere, quando è stata istituita nel 1473, il santuario a quell'epoca era già un centro importante per il culto della Vergine. Perciò la sua fondazione bisogna farla risalire a molto prima. E come ogni castello o ex castello che si rispetti, anche questo ha la sua leggenda. Si dice che dei soldati francesi assediati nella Roccaforte erano allo stremo delle forze per mancanza di acqua. Quando stavano ormai per cedere invocarono l'aiuto della Madonna, la quale gli indicò dove scavare per trovare l'acqua, e che permise a loro di non succombere. Di questo avvenimento non vi è traccia alcuna nei documenti. Però sotto il pulpito, alla sinistra, guardando verso l'altare, come vedete dalla foto, si trova una botola che copre un piccolo pozzo contenente dell'acqua. E che sia stato questo il fatto miracoloso, perché da costruzione militare venisse in seguito trasformata in un santuario, dedicandolo alla Madonna. E poi ci ha pensato la devozione del popolo. L'inizio fu molto travagliato, perché risulta da alcuni scritti dei parroci del periodo che il santuario venne abbattuto almeno in parte e con l'ordine poi di ricostruirlo subito. E i lavori furono ultimati, dopo diverse traversie nel 1691. Nei primi decenni del 1700 venne arricchito con un organo dei fratelli Serassi, famosissima famiglia di organari, e che questo organo, il terzo della loro produzione, sia il più vecchio esistente ancora funzionante. Ma che purtroppo nel luglio del 1724 rubarono allo strumento le preziose canne. Facciamo ora il salto di un secolo e arriviamo al terzo decennio del 1800, che per il nostro santuario fu un periodo di grandi trasformazioni. Venne abbattuto il torione e parte di quello che era rimasto della vecchia struttura militare. E con il materiale furono costruite le mura che cingono ora il prato e prese la sua forma attuale. Sempre in quel periodo lì il notaio Gian Battista Roncalli fa una descrizione della Madonna, che è una statua linea vestita con un manto trapunto di oro e argento. E lo si può ammirare in tutto il suo splendore il giorno della sua festa quando viene portata in processione. E nel 1868 vennero poste sul campanile le cinque attuali campane. Ancora una curiosità e poi siamo quasi alla fine. Si racconta che un prete salendo la scalinata, pochi metri prima del muro di contenimento sulla destra, si è caduto a terra rompendosi tre denti. E a ricordo del fatto venne messa nel muro una pietra con una specie di tre denti, ma più che denti sembravano tre artiglie di un leone. Quale ricordo della dominazione veneta in terra bergamasca, ma che i noti nottetempo li trafugarono e vennero sostituiti per futura memoria da questa pietra artificiale che ora state vedendo con i tre denti. In sintesi vi ho fatto una panoramica sulla Madonna del Castello di Ambivere. E se potete farci una visitina, male certo non vi farà. Grazie a tutti.